Allo stadio comunale di Alvignano il Procida vince 2-1 in trasferta, conquistando tre punti preziosi in chiave salvezza. Prima del fischio d'inizio, minuto di raccoglimento per la taggia di Firenze. Nei primi minuti le due squadre si studiano e fanno girare la palla, senza creare particolari occasioni da gol. Al minuto 9 ci prova Cibelli rovesciata da fuori aria. Bello il gesto tecnico, ma la palla va fuori. Al tredicesimo ancora Procida in avanti. Azione dalla sinistra di Cibelli e passaggio in mezzo per De Luise, ma la conclusione del 9 isolano va fuori. Al minuto 24 il Procida passa in vantaggio. Cibelli lanciato in aria avversaria e viene toccato dal portiere avversario in uscita e l'arbitro fischia il rigore. Dal dischetto va lo stesso numero 10 del Procida che non sbaglia e porta in vantaggi i suoi. La gialla del vantaggio però dura poco. Al ventottesimo minuto un'azione offensiva prolungata dell'Alvignano si conclude con il tiro vincente in porta di Tanchin. Alla mezz'ora episodio della moviola. Punizione di Cibelli dalla destra e sui sviluppi dell'azione di Luise da pochi passi manda la palla in rete, ma l'assistente di gara segnala fuori gioco. Al minuto 37 ci prova l'Alvignano con Arezzo dalla distanza, ma la conclusione va fuori. La prima fazione di gioco termina 1-1. Nella ripresa a pronti via il Procida per circa 4 minuti giochino in ferita numerica per una ferita al braccio di Luise. Il tempo di essere medicato a bordo campo prima di rientrare in gioco. Col passare dei minuti i padroni di casa spingono la ricerca del vantaggio schiacciando il Procida nella propria metà campo. Al minuto 13 ci prova 40 da fuori aria. Bella la sua parabola, ma la marra in tuffo devia in calcio d'angolo. Nel momento di maggiore pressione i padroni di casa sono i Solani a colpire. Al minuto 17 contro il piede perfetto dei Solani. Piro riconquista palla dalla difesa e passa a Cibelli, che con una grande giocata lancia di Luise in area di rigore. Lo stesso 9 storano dei posti da poi la palla in rete. Al ventiduesimo minuto risponde l'Alvignano con un siduro da fuori aria di Diop, ma il tiro va di poco sopra la traversa. Lo stesso numero 19 di casa ci riprova al minuto 32 in piena aria, ma la marra in uscita gli copre lo spazio del tiro. L'Alvignano si getta in avanti alla disperata ricerca del pari e presta il fianco agli avversari. Al 48esimo incredibile contro Pedro Procida con Cibelli, che lancia di nuovo De Luise in zona gol, ma stavolta l'attaccante di Solano non segna. Al termine dei 5 minuti di recupero, il Procida batte 2-1 l'Alvignano a domicilio, conquistando punti preziosi per la salvezza.